Urla, minacce e insulti. Momenti di panico quelli vissuti all'istituto comprensivo Dante Alighieri di San Giorgi in Bosco. Martedì mattina, durante l'intervallo, due nomadi si sono presentati a scuola per portare la merenda ad un loro nipotino. Quando hanno visto il piccolo strattonato da un compagno di scuola, come due furi hanno cominciato ad aggredire verbalmente insegnanti e bambini, tanto che le maestre hanno dovuto allertare i carabinieri che sono arrivati sul posto per allontanare i due rom che nel frattempo continuavano a lanciare minacce. Si tratta di un quarantenne e di una venticinquenne nati a Schioma che periodicamente fanno visita dei familiari accampati da tempo in una roulotte parcheggiata nella zona industriale di San Giorgio in Bosco. Il piccolo, che frequenta le elementari, sarebbe stato preso a calci da un compagno di classe e gli zii, vedendo la scena, hanno reagito, racconta la mamma del ragazzino rom che abbiamo incontrato nel parcheggio in cui vive. Non ho neanche diritto di denunciare le persone perché, come è giusto e regola, avevano ragione loro perché quello lì era il zio che doveva portare un panino per il bambino, hai capito? Perché non è la prima volta che picchiava quel ragazzino sempre il mio figlio, li picchiavano sempre, se quando c'era la scuola lì, quel ragazzino gli dava sempre calci. Questa è la sua versione dei fatti. Gli zii avrebbero alzato la voce per difendere il nipote aggredito, ma secondo il racconto fornito dalla scuola, i toni del diverbio sarebbero stati ben più gravi, con minacce pesanti, rivolte a maestre ed alunni. I due rom sono stati denunciati dai carabinieri per minacce.